È stato ritrovato dopo una giornata di ricerche Olvidio Boschini, il 73enne, scomparso ieri a Marotta di Mondolfo, dopo essersi allontanato da casa intorno alle 9 del mattino con il suo cane Blechi per la consueta passeggiata quotidiana. Non vedendolo tornare per l'ora di pranzo, i familiari hanno lanciato l'allarme ai carabinieri. Fondamentale per il ritrovamento è stata l'attivazione della procedura per la ricerca delle persone scomparse, coordinata dalla prefettura e dall'arma dei carabinieri, con la collaborazione della polizia locale, dei vigili del fuoco, della capitaneria di Porto, della Croce Rossa e dei volontari della protezione civile. Dopo una giornata di capillari ricerche Olvidio è stato ritrovato intorno alle 22.30 di ieri sera a Ponte Sasso di Fano, a circa due chilometri dalla propria abitazione di Marotta. Il 73enne era riverso a terra ma vigile in compagnia del proprio cane che non lo ha mai abbandonato. Dopo il primo intervento dei sanitari del 118, Olvidio è stato trasportato al pronto soccorso di Fano per accertamenti. Al momento del ritrovamento le sue condizioni di salute sembravano buone, racconta il figlio Andrea Boschini, che ieri ha lanciato l'appello per ritrovarlo sui social. Mio padre, a concluso, si trova in ospedale per accertamenti e sotto osservazione.